Dove ce ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 File chilometriche e record di visitatori per l'Expo Lo scorso sabato 26 settembre, ben 259.093 persone hanno visitato l'Esposizione Universale di Milano che quest'anno ruota attorno al tema dell'alimentazione Lei lo ha visitato? Sì, l'ho visitato ma sono rimasto deloso per le grandi code da fare tre ore, non si può aspettare tre ore, poi è una delusione unica Ho visitato gli Stati Uniti per vedere che cosa? Un capannone con un terrazzo che si vede all'Expo, un bar che vendeva prodotti italiani dal prosecco e qualcosa, ma di americano non c'era proprio niente Tre ore per visitare questo stand Poi ho visitato il Qatar, una delusione unica Tre ore di fila, insomma in una giornata sono riuscito a vedere due cose Due esposizioni Avevo detto a un nipote per mangiare un panino, un'ora di fila per arrivare Arrivo là, il panino non ce n'è più, c'è solo Macedonia Questo l'una Quindi è una delusione unica Un'ora e un quarto per entrare Dopo la metropolitana si saliva Un'ora e un quarto per entrare perché ci sono tutti i metal detector Quindi è stata una delusione unica Ma guarda, non ancora purtroppo, nonostante abito a 20 minuti da Rò Ancora non sono entrato Però presumo di entrarci, diciamo, entro la fine Cos'è il 30, il 31 ottobre? Non lo ricordo, sì Hai già in mente i padiglioni che vorrai visitare? No, non ancora Però la parte orientale, secondo me, potrebbe essere la più interessante Per quanto riguarda il mio parere, diciamo Prima dell'inaugurazione ci sono state un sacco di polemiche Riguardo alla data dell'apertura, piuttosto che alla sicurezza Secondo te hai visto il successo adesso della manifestazione? Sono state dimenticate? Ma secondo me sono state un pochettino dimenticate Poi ci sarà sempre una parte che andrà sempre contro A quella che comunque è una manifestazione mondiale Va vissuta con serenità, con gioia E apprezzando tutto quello che è stato fatto No Come mai? Non mi sentivo E non mi sento di andare all'export E non è interessato a questo tipo di manifestazione? Assolutamente Preferisco stare nel mio paese Comunque è stato un grande successo Comunque i numeri sono stati elevatissimi dalle presenze Quindi in qualche modo penso che possa aver fatto dimenticare Tutte le polemiche che ci sono state prima dell'inaugurazione? Ma no, ma voi dovete pensare a quello che succederà dopo Non adesso, scusatemi Dopo Intendo dopo la manifestazione? Hanno costruito Con tutte queste costruzioni che ci sono Che cosa succede? Dopo si licenziano tutti Che fanno? Cosa fanno? Dopo cosa faranno? Il personale, gli impiegati Gli impiegati che lavorano lì Che fanno? Che faranno? Saranno cacciati? Mandati via? E mi risponda Lei come gestirebbe la situazione? Ma a meno che so Fare delle università, ospedale Fare delle cose che servono alla gente In questo senso diciamo E dopo che fa? Mandano via tutte Tutte queste ragazze si troveranno tutte senza lavoro Diciamo Non penso possa essere comunque stata Bisogna pensare non al presente Ma fra qualche mese Mesetto Quanto è? Quanto manca? Un mesetto Mi dà una risposta a lei Gentile È lei che mi deve dare una risposta Cosa faranno questi ragazzi? Sa Lo sa lei? Io non lo so Lei cosa consiglierebbe in questo caso? Di cacciare via non questi ragazzi Ma tutta la classe politica Tutti Tu Ti Compreso il sindaco Quel sindaco che poi Dici che non c'entra niente Ma c'entra più degli altri Il sindaco di Milano? Sì 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 Il sindaco di Milano In merito a che cosa specificatamente? In merito che somiglia C'è una somiglianza a quello di Roma Si somigliano Uno in un verso Uno dall'altro Comunque si somigliano E' la verità Purtroppo Pensano a loro Quindi fa riferimento a tutte le polemiche Sugli appalti che ci sono state precedentemente? Subappalti, triplo Così E' così E' così